Prima del breve sciogliete le righe di fine anno, il sindaco Lucio Greco e i suoi assessori hanno chiuso diversi atti di giunta in una giornata, quella di ieri che è stata decisamente piena a Palazzo di Città. Oggi la Sise Civica, sempre in remoto, si è riunita per l'approvazione degli ultimi, almeno per quest'anno, debiti fuori bilancio. Greco, probabilmente spinto anche da quanto accaduto in maggioranza con la vicenda del consigliere Romina Morselli, ne ha approfittato per avere un incontro allargato, pare ci fossero diversi consiglieri dell'alleanza che lo sostiene. Si è discusso di vari temi, compreso il PEF sui rifiuti. Alla chiamata pare non abbiano risposto tutti i consiglieri, alcuni impossibilitati anche per impegni personali. Il caso Morselli ha fatto nuovamente emergere una tendenza a spaccarsi diversi pro greco, non se la sono sentiti di appoggiare il documento a sostegno del vicepresidente della commissione bilancio multata per abbandono di rifiuti. Il sindaco da tempo cerca di avere un nucleo di maggioranza che possa garantirgli stabilità politica in parte ci è anche riuscito ma solo quando si è trattato di chiudere il cerchio sul bilancio e su atti comunque strategici. Quello del tardo pomeriggio di ieri è stato un incontro non solo politico ma probabilmente anche programmatico, non è da escludere che entro domani possano eventualmente tenersi anche altri chiarimenti interni visto che non tutti gli alleati hanno gradito le ultime mosse dei compagni di viaggio a cominciare dai troppi distingui sul caso Morselli con una maggioranza che effettivamente è apparsa ancora una volta decisamente distante da una posizione univoca.